Ancora insieme nel segno della musica, una voce per San Marino riparte con l'entusiasmo di sempre. Firmato l'accordo di sinergia pubblico privato tra il segretario di Stato per il turismo Federico Pedini Amati, il direttore generale di San Marino RTV Andrea Bianello e Danny Montesi per Media Evolution. Ricomincia il viaggio che porterà il vincitore al Eurovision Song Contest di Malmo in Svezia in rappresentanza della Repubblica del Titano dal 7 all'11 maggio 2024. Candidature al via sul sito, una voce per San Marino.com. Occhio al regolamento, fase semifinale prevista a febbraio, finalissima il prossimo 2 marzo al Teatro Nuovo di Dogana e in diretta sulla tv di Stato. Numerose le novità su tutte, il ritorno dei big in gara insieme ai concorrenti emergenti. Guardate che io di fianco non può che essere di buon aspiccio una firma di un accordo del genere. Io sono veramente contento di dare continuità al rapporto che già si è creato. Abbiamo delle grandissime novità. Io sono particolarmente entusiasta di quello che potremo fare tutti insieme perché percepisco questo grado di novità che vorremmo mettere in campo tutti insieme e state pronti perché quest'anno ci saranno delle grandi novità e forse ci auguriamo anche dei grandi ospiti. Raccoglie idealmente il testimone di Ludovico Di Meo prematuramente scomparso il direttore Vianello pronto ad affrontare la sfida. Giusto andare avanti rispetto a un'iniziativa che è anche una delle cose importanti che noi facciamo come RTV, sta diventando un evento, sapete che Eurovision negli ultimi anni è diventata veramente uno degli eventi della tv e della musica più importante per tutto il nostro, diciamo, la penisola, ecco, quindi anche per San Marino e noi diamo la nostra, diamo la nostra con la finale che faremo come sempre in diretta. Ci lavoriamo perché pensiamo che deve essere, come ha fatto e deve fare ancora di più, un grande spettacolo che mette al centro San Marino di tutta Europa e non c'è solo la voce, c'è anche la parola di San Marino. Trampolino di lancio nel panorama internazionale, il Contest Festival punta sulla qualità musicale coniugando la territorialità con la partecipazione di nuove proposte e la presenza, ancora una volta, di artisti affermati. Abbiamo tanta voglia di ripartire, abbiamo lavorato, diciamo, un po' dietro alle quinte per tirare fuori queste novità e la più importante è che i big torneranno direttamente in finale, la novità del regolamento più importante e siamo pronti a ripartire, puntiamo su numeri ancora superiori agli altri anni.